Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margie. Oggi mostreremo come fare la colla di farina. Gli ingredienti sono 50 g di farina 00, 20 g di sale fino, 250 ml di acqua, poi servirà un pentolino e un cucchiaio di legno. Uniamo il sale alla farina e li mescoliamo bene. Versiamo l'acqua nel pentolino e uniamo un po' alla volta la farina. Giriamo continuamente a fiamma bassa, evitiamo la formazione di grumi. Sono trascorsi circa 4 minuti da quando abbiamo unito la farina. Il composto inizia a solidificarsi, vi renderete conto proprio con il cucchiaio di legno. Girate continuamente. È molto solida. Il composto si stacca perfettamente dalle pareti. Possiamo spegnere. Adesso aspetteremo che si freddi prima di conservarla in un barattolo di vetro. Abbiamo fatto raffreddare la nostra colla di farina. Adesso parte della stessa la utilizzeremo e parte la conserveremo. In un barattolo di vetro chiuso ermeticamente. Così facendo durerà un po' di più. Invece, se lasciata all'aperto, dopo un paio di giorni si creerà uno stato di muffa in superficie. Quindi bisogna conservarla con le opportune precauzioni. Ebbene, con questo breve video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.margistyle.com e sulla pagina Facebook Margi Style. Alla prossima!